Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono convinto che in questa aula ci sono anche le forze dell'ordine che ci ascoltano, che ci tendono, in mano della formazione grande, che abbiamo visto. Io sono anticipato 8-9 mesi fa, 8-9 mesi fa, dove nella mente, mettendo davanti il dolore politico, le appartenenti. Ne è bene e male 30 anni di una politica che ha fatto in parte del salito, e a chi ancora si fa di loro vecchi interessi, ne è bene e male. Per quanto mi riguarda, non faccio alla luce del giorno, e nessuno di voi, nessuno di voi potrà mai riuscire, mai riuscire, a sempre che cavano, a tutto in cambio, a qualche cosa da la politica. Allora, ho messo la parte, tutto quello che ho messo nella parte della comunità del Spagnolo. Con questo che ho messo nella parte della comunità del Spagnolo. ognuno accettato, ognuno accettato, anche la politica ci ha cambiato. Pensando che sta ed emozionando, pensando che sta ed emozionando una posizione di governo che non c'è là. E poi vogliamo parlare di governo che ci sono di grado. Allora, io dico, a te dico, benvenuti, una parte dell'opposizione si visce, ma si unisca a me nel conseguentro di questa città. E poi c'è un'altra cosa che non c'è, 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 non c'è. E io dico, a te dico, a te dico, a te dico. Noi dobbiamo vincere, li dobbiamo sbagliare, e se vediamo che fanno dei interessi alla città e li dici a scoprire perché sono le due che stanno qua dentro qua, perché hanno esigeno, perché ci siedono di queste cose, vedono il loro futuro. Allora io dico, li dobbiamo sbagliare, tutti quanti a giù, portiamo il tuo posto, quello al lato del bilancio, ma mi interiscono l'arco, anche il prezzo, tutti quanti, anche per la parte dei giudici, univiti al fine del Consiglio Comunale, ma anche nella parte del bilancio, portiamo il tuo posto, mettiamo il sindicato, c'è la legge che c'è l'operazione, e non dico perché, Augusto, no, non c'è l'occu mouse, perché ti avevamo dispercuto, in questa sanità, come balla, e poi è dit moi ce l'ho il libro che prestava! il pubblico che appena il pubblico che gli addori il pubblico al loro pezzi a dire il pubblico paddini l'abbiamo in questo il debentamento che non ha sempre finalmente ora vivi attenti! è un asilo quando vieni a qui che vieni a dire come va a farbare i corsi e il nostro buone video in piccolo il basso Se accadde questa parte e in mezzo di quello che dice Mario, no che dice Dizio, dice Carlo, perché io non lo devo ascoltare? Io voglio concludere il mio piede. Penso che da questo momento, da questo momento, tutti i quali assunti, le variate, ma tu che sei nella materia, no? Come si chiede il commercialismo? Ma diciamo che, che ha? Possiamo portare, sono così lì, nel bilancio che queste amministrazioni ci hanno riservato a loro. Ma sì, no che tu ho oggi e prese, mosca, di uve, questo sia, non lo so, ma sì, siete portati confidentemente, facciamo parte, parte parte di questa amministrazione. Che cosa so, ma sì, se posso parecì che vanno a pagare delle cose, oggi sono richtig, ma non lo dico quindi pego, vaolo e questa amministrazione, faccia solo per un attimo in modo, per un attimo, contro gli interessi per la actualità e della politica, grazie a tutti